eccoci qua un altro podcast di oggi di Matteo Barberi partirei con questa frase mai lasciare le cose che contano molto alla mercè di quelle che contano poco riprendiamo tra un secondo il podcast però parliamo di che cosa? parliamo delle cose importanti e di come non tanto come gestire il tempo che ci sono migliaia di tecniche per fare questo ma però quello che sta alla base per gestire poi il proprio tempo perché il concetto banale è sostanzialmente la partenza degli obiettivi cioè se io ho degli obiettivi e facciamo un esercizio insieme se io vi chiedo adesso in 30 secondi di definire i vostri tre obiettivi della vita fatelo ma in 30 secondi prendete carta e penna e fatelo lascio a voi terminare i vostri secondi ma fatelo questo esercizio cioè 30 secondi quali sono i vostri tre obiettivi che volete raggiungere tre obiettivi l'obiettivo diventa tale al di là di definire cos'è un obiettivo quando c'è ovviamente un desiderio c'è una motivazione cioè la motivazione viene attivata quando c'è un desiderio di fare questo desidero questo desideri quando tu desideri scatta la motivazione quanto lo vuoi più una cosa la vuoi più scatta il desiderio più il desiderio si definisce si definisce un preciso obiettivo che tu vuoi fare senza gli obiettivi di ogni mattina chiunque voi siete imprenditori, dipendenti, qualunque cosa dovete avere a che fare con quello che sono gli obiettivi gli obiettivi sono personali possono essere obiettivi a breve termine, medio termine, a lungo termine però ovviamente se gli obiettivi quelli che funzionano di più sono quelli a medio o lungo termine perché? perché io quando prendo le decisioni oggi determineranno il domani delle mie determinazioni perché vi ho detto questo? prendete la vostra carta e penna dove te ho letto quei tre obiettivi e cercate di farlo anche tra di voi, tra il vostro familiare cercare di condividere gli obiettivi veramente tra di voi cosa succederà a un certo punto? che questi obiettivi sono quelli che si vi fanno muovere ogni giorno e vi permetteranno sostanzialmente di decidere sostanzialmente cosa fare di priorità ogni mattina molti di voi entrano al lavoro aprono la casella di posta elettronica e cominciano a fare a random tutte le proprie attività per tutto quello che uso io e che lo uso da tempo al di là di avere la carta e la penna che ho scritto la mia quello che ho chiamato to-do list cioè la lista ok di attività io uso un programma ok che sono in tutte le mie pipeline e queste attività dedicate come si dice buon 10-15 minuti ogni mattina a organizzare la vostra giornata 10-15 minuti le statistiche ci dicono che prendere 10 minuti di programmazione e di gestione della nostra giornata ci può far recuperare 2 ore al giorno ripeto 2 ore al giorno che non sono poche 2 ore al giorno perché il momento in cui organizzo le mie attività saranno tutte di peso dal mio obiettivo per quello io so che avrò classificato c'è la legge dell'ABCDE ok che è una legge abbastanza chiara che utilizzano tutti cioè classificano i propri obiettivi le proprie giornate in A A1 A2 A3 A4 che sono quelle che per forza devo fare se non sono problemi che hanno problemi economici di qualunque tipo poi l'attività di B di C di D di E fino ad arrivare alla E che posso totalmente anche se non le faccio non succede nulla o quelle per esempio della D le posso delegare al mio personale che non cambia nulla ok per quello quando io vado prima a esaurire l'attività dell'A1 ok e facciamolo con intelligenza perché se capisco questa attività vi renderete conto poi nel tempo la legge di Pareto cioè l'80-20 addirittura 10-90 vi ricordate che l'avevo già detto cioè significa che facendo solo le A la 1 o la 2 ok voi avete risultati più alti economici anche se non fate le altre cose che in realtà non come dipendenti non vi siete mai posti io lavoro 12 ore al giorno quando ti rendi conto che le tue tre azioni facendone solo tre al giorno molto probabilmente quelle hanno un impatto economico di più sull'azienda con cui stai lavorando ok per quello magari io stessa cosa la faccio io per quello ho attività prioritarie che sono di sales e di vendita il social selling mi va in un certo orario va ma pesa meno che fare motivamente le telefonate ok perché devo avere tot lead senza le vendite non c'è neanche il servizio per quello non c'è neanche il prodotto vale di più quella o mettersi dietro a fare una risposta a un cliente che di fatto può aspettare anche il giorno dopo se non è un'urgenza ok può essere importante ma non urgente che sono due cose ben differenti e lui ha creato la cultura anche nel cliente di dire questo è importante ma non è urgente ok perché vivi lo stesso e vive anche lui questi pesi dovete ben gestire in quei dieci minuti consiglio perché l'esercizio di questo podcast è molto chiaro ponetevi la domanda ricordate che molto probabilmente alcune domande saranno uguali per tutti perché le sfere che andate a toccare sarete sfera economica finanza cioè la vostra carriera due la sfera relazionale tre la spesa salute su queste le tre aree su quale si basano i nostri obiettivi della vita salute mio obiettivo è migliorare mangiare meglio dimagrire sentirmi meglio allora dovrò applicare delle azioni quotidiane ok se voglio raggiungere quell'obiettivo ok se l'obiettivo è forte ma però l'ho scritto su carta e non solo detto a parole perché dovete scrivere gli obiettivi in un bel pezzo di carta l'obiettivo è sostanzialmente io voglio dimagrire cinque chili entro quando piuttosto voglio sentirmi meglio cosa devo fare devo fare mezz'ora al giorno di camminata ok questo diventa imprescindibile devo fare mezz'ora al giorno di camminata e non si può un ecco un giorno tollerare si fa dieci minuti non avete mezz'ora fate un quarto d'ora al mattino un quarto d'ora alla sera però diventa un obiettivo perché entra nella vostra sfera dei vostri obiettivi di stare bene in salute significa stare bene ok dopo vi faccio alcune sono quelle che riguardano un po' tutti vi faccio altre domande di questo esercizio di questo podcast per esempio se vi dico in questo momento preciso quali sono i tre obiettivi più importanti nella sfera degli affari e della sfera della carriera scriveteli al volo entro 30 secondi scrivete anche cominciamo a fare un po' di domande in questo momento sempre preciso quali sono i tre obiettivi fondamentali nella vostra sfera di relazionali e affettive scriveteli questi tre obiettivi e mettete nel cassetto poi quali sono gli obiettivi in ambito di finanze personali quali sono gli obiettivi i tre obiettivi che vi ponete ok nell'ambito della salute quali sono i tre obiettivi che volete raggiungere sostanzialmente ok segnati quali sono nella vostra sfera nello sviluppo professionale cioè quello che sono per voi sviluppo professionale quali sono gli obiettivi in ambito comunitario sociale e vado a scrivere i miei obiettivi quali sono le tre preoccupazioni più importanti e più gravi in questo momento della vostra vita allora queste domande che vi ho fatto a carrellata prendete un pezzo di carta scriveteli allora la vostra attività la vostra giornata deve ruotare intorno agli obiettivi e questo vale nella sfera lavorativa nella sfera personale nella sfera salute perché se voi non avete gli obiettivi scritti voi sarete trasportati come un fiume cioè dall'acqua che scorre ok e questo è quello che fanno tutti i dipendenti ma tutti gli imprenditori uguali lavorano perché c'è il cliente che gli chiede cosa fare mentre se io mi fermo e ho chiaro tutti i miei obiettivi cominciate con tre precisi io ogni giorno farò un piccolo pazzettino per quel tipo di obiettivo piccolo che sia fatto mi sono cominciato anch'io a scrivere tutte queste cose in ufficio ho il mio fogliettino con i miei obiettivi ok ogni giorno faccio un piccolo pezzettino che serve per raggiungere quell'obiettivo non l'obiettivo di chi vostro ok questo per me è una cosa fondamentale su quanto è fondamentale e poi applicate la regola della bcde che è l'organizzazione della giornata ok perché se arrivate di corsa la prima cosa è carino vi mettono il telefono dovete rispondere voi far tutto a voi dovete pensate che sia più importante mandare la carta che alcune volte alcune comunicazioni burocrazia si possono anche ben procrastinare anche nei giorni dopo che non muore nessuno ma non mentre non chiudere un contratto sarebbe un grosso problema non rispondere a quella persona che mi ha detto che chiudeva il contratto oggi ok poi imparate a comunicare ok per quello una cosa interessante è qui avete le vostre attività della giornata che potete fare quelle per forza bcde dedicate come ho detto 10 minuti un quarto d'ora ok e poi vedete che le giornate ventano molto più tranquille perché avete capito che il vostro obiettivo è quello si deve fare budget il mio obiettivo sono le attività economico finanziarie il resto lo faccio se ho tempo se lo procrastino in quali orari non negli orari d'oro l'ora d'oro non devo farmi toccare da nessuno l'ora d'oro che è l'ora delle telefonate l'ora che io so che riesco a essere concetto è perché sono motivato per esempio i venditori sanno benissimo che il mattino è l'orario migliore perché sono super energici sono gasati si sono preparati e quello lì perfetto va benissimo a telefonare dopo non gli deve rompergli le scatole nessuno in quel momento nessuno devono mettersi dietro e combattere come se fossero in guerra punto il resto quello è il concetto di dire ho i miei tempi e nessuno mi deve tra virgolette perché ho capito quali sono gli obiettivi e se gli obiettivi coincidono con gli obiettivi economici dell'azienda perché in realtà io se produco più io guadagno di più io salgo di carriera e l'azienda guadagna sto facendo un bene per chi? per la mia azienda ok niente di più perché quello è solo un vantaggio non è io prendo tempo e scazzeggio su facebook ecco questo è un po' per farvi capire un po' le priorità detto questo buon buona analisi ponetevi questi tre obiettivi ve li iscrivete e eventualmente condivideteli condividiamoli così almeno possiamo tutti insieme un po' ragionare su queste cose grazie a voi e buona e buona serata grazie a tutti grazie a tutti